Ciao a tutti amici di TecnologiaSumisura.net in questa video recensione dedicata alle periferiche gaming abbiamo deciso di testare le cuffie prodotte dalla Corsair e per la precisione le Vengance 1500 queste cuffie hanno la peculiarità di essere USB quindi senza darci la fatica di collegare il pannello frontale del case un cavo microfono e un cavo per riprodurre l'audio negli altoparlanti ma di fare tutto comodamente in modalità plug and play come potete vedere queste cuffie sono stereo tuttavia tramite un'implementazione software e quindi una modulazione delle frequenze e dell'intensità dei suoni è possibile riprodurre un audio Dolby 7.1 vediamo la confezione la giriamo sul fianco in modo da potervi mostrare le caratteristiche tecniche di questo prodotto vediamo che la risposta delle frequenze è compresa tra i 20 e i 20 kHz e quindi praticamente riuscirà a riprodurre tutte le frequenze dei suoni percepibili dall'orecchio umano abbiamo un'impedenza 32 ohm un intervallo dinamico di 95 decibel e questo è un intervallo molto buono e praticamente sta a significare che l'audio non verrà distorto anche ai livelli più alti i driver che sono gli autoparlanti ne abbiamo due da 50 mm quindi sono molto grandi quindi è sempre a maggior garanzia di una riproduzione del suono molto buona e fedele la lunghezza del cavo usb è di 3 metri abbiamo il consumo energetico e il connettore che è di tipo usb vediamo l'altro fianco e è possibile intravedere già la forma di queste cuffie vediamo che questa banda che è di color alluminio dona già un impatto estetico molto gradevole quindi si va a unire alla sostanza la funzione quindi non ci rimane che aprire la confezione e vedere da vicino come sono fatte queste cuffie la confezione diciamo subito che è molto minimale all'interno abbiamo praticamente solo il foglio della garanzia giriamola dalla parte che ci interessa e possiamo vedere subito le cuffie concentriamoci inizialmente sul cavo usb che è sempre rivestito in corda sintetica e qui possiamo vedere i vari interruttori che sono per alzare, abbassare il volume e disattivare o attivare il microfono e teoricamente questi si dovrebbero illuminare in modo da consentirci anche magari nelle sessioni gaming le ore notturne di poter vedere come regolare al meglio le cuffie durante il nostro utilizzo estraiamo le cuffie dalla confezione ecco, già subito alla prima presa danno un'ottima impressione di solidità e allo stesso tempo di leggerezza infatti non sono affatto pesanti vediamo che qua c'è un'imbottitura sembra di qualità ed è abbastanza morbida qui abbiamo il microfono che è flessibile e come vedete si può piegare come meglio preferiamo oppure tenerlo sollevato questo microfono ha la caratteristica che oltre ad avere almeno sulla carta delle ottime performance garantisce anche la suppressione dei rumori di fondo come vediamo le cuffie si snodano in questo senso in modo da adattarsi pressoché a ogni tipo di testa e anche di padiglione auricolare proprio per questa imbottitura che dovrebbe garantire un ottimo isolamento acustico ed inoltre essendo a memoria di forma non dovrebbe assolutamente dare fastidio anche se queste verranno indossate per un periodo di tempo relativamente lungo e appunto dovrebbero adattarsi a qualunque tipo di padiglione auricolare questo non si capisce bene se è plastico o metallo sembra una plastica comunque di qualità con questo effetto metallico ok non ci rimane che potete vedere com'è il software di configurazione di queste cuffie e poi cercare almeno di farvi capire la qualità di ascolto ve la possiamo solo raccontare naturalmente mentre per il microfono le parti successive registreremo su questo microfono in modo che voi stessi possiate rendervi conto della qualità bene adesso le proveremo per qualche giorno e poi proseguiremo con questa recensione abbiamo testato le cuffie approfonditamente in questi giorni e possiamo dire che ne siamo rimasti veramente sorpresi e soddisfatti li abbiamo testati sia ascoltando musica sia giocando in multiplayer e anche ascoltando film e possiamo dire che il livello di riproduzione degli altoparlanti è davvero cristallino in tutte le modalità e si riescono a percepire davvero tantissimi dettagli che normalmente con la riproduzione audio di un monitor ad esempio o con degli auricolari non si riescono a percepire l'unica nota negativa è che abbiamo notato che la riproduzione dei bassi non è così profonda però non vanno assolutamente a intaccare la qualità complessiva e la qualità si riflette anche nella realizzazione stessa delle cuffie infatti non si sentono screcchioli sono veramente solide e leggere e anche indossandole per parecchie ore abbiamo cercato appunto di tenerle indosso il più possibile non ci si affatica sono leggere, avvolgenti e si adattano ergonomicamente alla conformazione penso di quasi qualunque testa inoltre il tipo di imbottitura che avvolge i padiglioni auricolari oltre a lasciar traspirare molto bene la pelle garantisce anche un ottimo livello di isolamento acustico infatti anche a volume basso delle cuffie non si riescono assolutamente a percepire dei rumori esterni se è totalmente immersi nelle varie dinamiche di gioco o mentre si guarda un film eccetera 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 per farvi rendere conto della qualità di queste cuffie naturalmente possiamo solo descrivervi il livello di ascolto però stiamo appunto registrando questa seconda parte della recensione proprio col microfono delle cuffie stesse in modo che anche voi possiate almeno parzialmente percepire parte insomma della qualità che stiamo provando per voi comunque adesso già da un po' che siamo sulla pagina della Corsair per farvi vedere qual è come scaricare il driver di installazione basterà andare appunto sulla pagina dedicata a questo modello di cuffie andare nella sezione download e premere in questo punto per scaricare il driver arrivati a questo punto basterà collegare la porta usb e premere sul file e seguire la procedura di installazione guidata al termine della quale verrà riavviato il computer e tutto funzionerà a dovere noi naturalmente abbiamo già installato tutto facciamo un doppio clic giusto per aprire l'interfaccia che vi si presenterà è un'interfaccia che occupa solo una schermata ma tramite la quale si potrà regolare il tutto nella sezione principale regoleremo il volume di ascolto degli altoparlanti qui regoleremo il volume del microfono e questo il loopback del microfono che serve sostanzialmente a riprodurre l'audio che registriamo anche negli altoparlanti proprio per ascoltarci tuttavia non siamo riusciti ad utilizzare questa funzione direttamente da questo driver ma per farlo basterà andare nel pannello di controllo selezionare la voce audio andare in registrazione proprietà andare in ascolto e basterà spuntare questa sezione qui ascolto il dispositivo premendo applica si ascolterà quello che si dice tramite il microfono insomma ok torniamo al nostro driver nella sezione equalizzatore avremo già dei profili predefiniti uno di default uno indirizzato all'ascolto musicale uno per i film l'altro per giocare con gli fps naturalmente nessuno ci vieterà di modificare a piacimento il nostro equalizzatore adesso l'ho fatto a caso ma solo per farvi vedere che si potrà aggiungere un profilo totalmente personalizzato in questo modo prova e come vedete è stato aggiunto da questa sezione invece si modificherà il software tramite il quale vengono riprodotti gli effetti sonori in bypass le cuffie funzioneranno totalmente in modalità stereo cliccando in 5.1 la riproduzione appunto sarà in 5.1 vedete che si può avere un effetto studio un effetto cinema un effetto hall che appunto cambia solo per la dimensione dell'ambiente di riproduzione cliccando sulla modalità 7.1 mi fermo un attimo a parlare perché potrebbe esserci un taglio della registrazione ecco entrati in questa modalità addirittura si potrà modificare la posizione degli altoparlanti in base alle proprie preferenze vedete se volete allontanare spostare il subwoofer la cassa centrale insomma avrete un'ulteriore possibilità di personalizzazione pensiamo di aver detto tutto e pensiamo anche se dobbiamo trarre le conclusioni di queste cuffie che per una fascia di prezzo di circa 70-80 euro dipende a che negozio vi state riferendo siano un acquisto da prendere seriamente in considerazione perché è difficile insomma raggiungere questi livelli di qualità per questa fascia di prezzo con questa recensione abbiamo concluso fateci sapere se vi è piaciuta che eventualmente valuteremo di portare avanti altre recensioni e non ci rimane che mandarvi un saluto tutto e un saluto in particolare da Valerio grazie a tutti